Pazzesco, semplicemente pazzesco, non ho un altro modo di definire questi tre giorni di calcio europeo che ci siamo gustati, io purtroppo non le ho viste tutte le partite, mi è mancato appunto di vedere l'Arsenal col Bayern, mi è mancato di vedere l'Atletico col Borussia, mi è mancato il Leverkusen, mi è mancato il Benfica, non le ho potute vedere tutte, però ho visto quattro partite, signori, quattro partite tra la sfida tra City e Real, Real e City, e tra la sfida tra PSG e Barcellona, e stasera in contemporanea la partita tra Milano e Roma e Atalanta-Liverpool, anzi, Liverpool-Atalanta, io direi che fra tutte queste quattro partite qui, quella che più ha lasciato desiderare è il derby italiano, infatti sono anche curioso, adesso andrò a cercare questa statistica, ma sono veramente curioso di vedere anche il tempo effettivo di gioco, perché guardandole in contemporanea queste gare si perde sempre qualcosa, ho guardato sulla Rai appunto il derby italiano, e ho guardato su Dazon, sul tablet, la partita di Anfield Road, guardandole in contemporanea qualcosa perdi, però ero talmente tanto attratto dalla partita sul tablet, senza audio, che sembrava veramente una partita di calcio inglese, che ho anche un pochino snobbato, devo essere onesto, il match di San Siro, match di San Siro dove, secondo me, il Milan ha un po' deluso, parto da questa gara qua, dove credo che ci sia un po' meno da dire, il Milan ha deluso, mi aspettavo decisamente di più, perché non tanto da cui passerà la conferma dei Pioli, io credo che ormai Pioli si sia messo un po' da parte, anche la fiducia da parte della società, e che quindi inizierà la prossima stagione al Milan a questo punto, è arrivato, o comunque arriverà secondo in Serie A, aveva un giro nei Champions ok, è andato in Europa League, secondo me in Europa League il Milan aveva la possibilità di errar fino in fondo, e ce l'ha ancora, perché la partita si conclude soltanto 1-0 per la Roma, ci sarà un ritorno giovedì prossimo, però non si mette sicuramente nelle migliori condizioni possibili, per affrontare una partita così determinante contro un avversario tosto come Daniele De Rossi. Credo che il Milan abbia ritrovato un pochettino di brio e di vita con i cambi, perché questa è la classica partita in cui mi fa, in cui arrivo veramente sportivamente parlando a detestare Raffa Leao, perché io amo Raffa Leao, è un giocatore che mi fa provare delle emozioni quando gioca a calcio, e poi ci sono le serate come queste in cui non gioca a calcio, e qui passa proprio tutto un discorso di mentalità, di talento, di quanto potrebbe fare in più questo giocatore con un po' di dedizione e abnegazione in più. È un gran peccato, secondo me, perché Leao credo che abbia veramente un potenziale di quelli alti, 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 che potrebbe giocare delle partite molto, molto importanti, ma che questa cosa vada molto a limitare il suo percorso di crescita e quella che sarà anche la sua carriera. Poi Pioli cambia, mette dentro Adli prima e Ciuqueze poi, e sono proprio loro due a creare le occasioni più importanti della gara, perché Adli con quel cross, possiamo dire che era un cross, becca la traversa. Ciuqueze con quell'assist a Giroud, non lo sbagliavo neanche io forse, quel gol lì, ovviamente si fa per dire, io non sarei neanche riuscito a beccare il pallone, però per uno come Giroud, per la carriera di Giroud, per l'importanza di Giroud, quello lì è un gol sbagliato, di quelli importanti, di quelli che pesano e di quelli che potrebbero fare a differenza una partita così tirata e equilibrata. De Rossi la porta a casa, ancora una volta grazie a Mancini, è il risultato copia e incolla su carta carbone di quello che è stato il derby di Roma, 1-0 gol di Mancini su un calcio d'angolo, e questa diventa un'arma per De Rossi, ma sicuramente De Rossi ha messo mano alla Roma, l'ha rigenerata completamente, ha cambiato la squadra, ha cambiato il sistema di gioco da 3 a 4, anche se quello di stasera è stato un modulo molto camaleontico per cercare di bloccare il Milan. Credo che la Roma a un certo punto del match avrebbe meritato pure il 2-0 e poi gli ultimi 20 minuti di Milan invece sono stati all'arrembaggio dove il Milan avrebbe meritato probabilmente miglior fortuna. Quindi è una partita che finisce 1-0 sì, ma 1-0 secondo me è finto, è una partita secondo me in cui dovevano segnare tutte e due le squadre e in cui la Roma ha avuto anche delle grosse, grossissime occasioni per andare a raddoppiare. Tutto aperto, si deciderà giovedì prossimo all'Olimpico, una partita che è andata a sprazi, è stata veramente tirata da una parte e dall'altra. Ma ribadisco, io forse sono un po' severo con il Milan di Pioli e con Pioli in generale perché secondo me il Milan ha una squadra con un potenziale elevato. In questa stagione non si è visto ancora completamente tutto. L'Europa League poteva essere una ghiotta, se non ghiottissima, occasione per svoltare la stagione e fra 6-7 giorni si giocherà bene o male il dentro fuori e vedrà se riuscirà a passare il turno, arrivare in semifinale di una Coppa che è comunque molto molto importante, con la Roma che invece l'anno scorso aveva perso la finale della stessa Coppa. Quindi una Roma che sta iniziando ad acquisire anche un certo DNA europeo di livello perché dopo aver vinto la Conference, la finale di Europa League nei quarti batti 1-0 il Milan in Europa non sono cose mai scontate. Però io dall'altra parte voglio parlare principalmente di quello che è stato il colpo dell'Atalanta a Danfield. Io non ricordavo sinceramente una precedente vittoria dell'Atalanta nel 2020-2021 a Danfield, quindi sempre Klopp contro Gasperini. L'Atalanta vinse 2-0 per poi perdere 5-0 in casa, quindi attenzione non è ancora terminata, non è ancora finita, non è detto niente. Però stasera l'Atalanta vince per 3 gol a 0 a Danfield Road. L'Atalanta ha ballato, l'Atalanta ha rischiato, l'Atalanta termina il primo tempo credo con 70-30 di possesso palla del Liverpool, quindi per forza di cose una partita che viene in una certa direzione, ma il coraggio che ha messo l'Atalanta in questa partita per me è quasi commovente. È quasi commovente. Perché è vero che parlavamo di una squadra, il Liverpool, che sicuramente non era partita negli 11 titolari con i migliori calciatori che ha il rosa. Però c'è anche da dire che in questa stagione Klopp ha avuto diverse difficoltà, ha avuto diversi infortuni, ha avuto diversi giocatori fuori, quindi ha fatto anche sempre di necessità virtù. Andatevi a vedere la classifica della Premier League, parla chiaro. Liverpool, Arsenal, City, lì a giocarsi il primo posto e quindi lo scudetto inglese. Quindi stavamo parlando della prima in classifica del campionato inglese della Premier League che è il riferimento mondiale, se non europeo, mondiale, contro una squadra, l'Atalanta, che è sesta, se non vado errato, in Serie A. Forse Klopp non ha rispettato tanto l'Atalanta. Le parole della vigilia, cioè all'enerò in Italia, di italiano conosco solo il cibo, beh, probabilmente queste tre polpette per rimanere in tema cibo sono andate un po' di traverso a Klopp. Oggi a doppio passo ho analizzato tanto questa gara perché era quella che mi gasava di più in assoluto e dicevo che potesse essere un Davide contro Golia. Beh, Davide ha stravinto contro Golia, anche se la partita non è ancora terminata, si è giocato praticamente il primo tempo, se vogliamo, però Davide ha stravinto. E parlavo anche di questa voglia e dicevo, se fossi Gasperini, io questa partita qui me la vorrei proprio giocare. Perché arrivi a un punto in cui il Liverpool è quasi giocare a GTA con i trucchi. È fuori contesto per quello che è il livello dell'Europa League. E tu che non sei favorito nel pronostico, hai solo da guadagnarci. E io credo che l'Atalanta questa sera ci abbia guadagnato e anche tanto. In due partite giocate a Dunfield nella storia esce con cinque gol fatti e zero subiti. Non so quante altre squadre possono vantare una statistica di questo tipo qua. E adesso è comunque, viene da dire, è comunque tutto aperto al ritorno. Perché il Liverpool ha assolutamente le capacità, le caratteristiche per rimontare e passare questo turno di Europa League. Però l'Atalanta ha messo una serie epoteca e ora dovrà vendere cara la pelle il Liverpool per passare questo turno. Tra l'altro leggevo che in casa il Liverpool non perdeva da 14 mesi. Una roba del genere. Correggetemi se sbaglio nei commenti, una cosa che ho letto alla veloce prima di iniziare a registrare questo video. Dal punto di vista sportivo, per me è un capolavoro questa partita qua. Un capolavoro destinato a rimanere immortale. Perché stiamo parlando veramente di una realtà come l'Atalanta, che è sempre stata quella squadra che doveva salvarsi che in questi otto anni con Gasperini si è tolta non poche soddisfazioni. Questa doppia vittoria ad Anfield mi viene in mente quella final eight di Champions League nell'anno del Covid dove viene eliminata in una gara secca dal PSG dove il PSG comunque ha rischiato e non poco. Ma soprattutto un'Atalanta che addirittura va lì, fa una partita di un'intensità meravigliosa con una doppietta di Gianluca Scamacca che ha avuto anche l'opportunità, siccome è di testa, di infilare una tripletta e con un gol, un tap-in di Pasanic, sempre imbeccato da un assist di Scamacca che mette Ederson in porta e poi Ederson sbaglia un pallone abbastanza facile, così come l'aveva sbagliato Cobb Mainers nel finale di primo tempo. Ma ci sono state tantissime occasioni da gol, il Liverpool che prendono la traversa, un palo, Salah che fa gol viene annullato, c'è stata una partita con dei ritmi talmente alti che è stata meravigliosa è l'Atalanta che fa un cambio, perché entra Miranchuk mi pare al posto di De Ketelare a due minuti dal termine. Quindi io veramente in questi tre giorni tra Real City, tra PSG, Barcellona, tra Liverpool-Atalanta e mettiamoci dentro anche questo Milan-Roma che un po' mi ha deluso, non posso negarvelo, ma tre partite, tre partite di un'intensità quasi imbarazzante. Cose che non siamo abituati a vedere quasi mai in Serie A, l'Atalanta ha fatto una partita impressa in uomo su uomo in tutto campo quasi commovente, veramente quasi commovente e ve lo dice uno che è innamorato perso di Klopp, io sono innamorato perso di Klopp, a me piace tantissimo Klopp, è il modo in cui è riuscito a dare questa identità al Liverpool e non vi ho mai nascosto la mia antipatia nei confronti di Gasperini dal punto di vista umano, dal punto di vista manageriale, professionale, Gasperini è un allenatore che ha scritto delle pagine assurde del nostro calcio, ha letteralmente cambiato, innovato il nostro calcio e queste serate gli fanno prendere delle belle rivincite, proprio lui che è di trofei non ne ha mai vinti, però queste sono tutte medaglie che si mette sul petto, che può portare all'infuori stasera perché vincere 3-0 ad Anfield, guardate non so cosa darei per immaginarmi una partita da Juve che va ad Anfield e vince 3-0, deve essere una sensazione, un'emozione meravigliosa e non posso immaginare cosa abbiano provato quei tifosi bergamaschi presenti lì dal vivo a vedere una partita di questo tipo qui, deve essere un'emozione indescrivibile. Fatemi sapere un po' la vostra, questo è tutto nei commenti, se avete scelto di vedere Milan-Roma piuttosto che Liverpool-Atalanta, mi dispiace tanto per voi ma spero che questo breve riassunto e reso conto di entrambe le partite possa essere stato il vostro rarimento e noi ci vediamo domani per parlare della conferenza stampa, della vigilia, del derby di Torino perché poi torna in campo anche la Juve, deve fare questi punti per qualificarsi alla Champions perché francamente mi sono anche rotto le scatole di giocare soltanto una volta a settimana e nei confini italiani abbiamo necessità di tornare a confrontarci su dei palcoscenici importanti e cercare di fare delle partite gagliarde ma soprattutto coraggiose come quelle che abbiamo visto fare questa sera all'Atalanta. Ciao ragazzi!